chiedi a tuo padre all'interno di queste selve domestiche tante selve domestiche succedono degli episodi particolari sono delle incomprensioni tra i genitori voi bambini voi bambini che avete l'esigenza di fare domande di avere delle risposte di stare fuori a contatto con la natura e non sempre gli adulti sono pronti a rispondere a tutto questo a volte non hanno il tempo a volte non ci riescono per imbarazzo e insomma questo manuale raccoglie tutte queste frasi molto divertenti molto ironiche tipo forse vedremo non vi è mai capitato che un genitore vi dicesse forse vedremo è la tipica risposta che vi danno quando non vogliono dirvi subito di no ma in effetti significa no posso avere un cane forse vedremo traduzione no spesso quando si chiede a papà il permesso di fare qualcosa si ottiene come risposta chiedi a tua madre in alternativa si ottiene talvolta un chiedi a tuo padre se si è chiesto alla mamma altre volte si impallano l'un l'altro in un simpatico ping pong ma raramente succede qualcosa di più come fanno i bambini a entrare nella pancia della mamma chiedi a tuo padre papà come fanno i bambini a uscire dalla pancia della mamma chiedi a tua madre e poi quando avevo la tua età ditemi che non vi siete mai sentiti dire una frase così questa è una frase che di solito si prepara ad una lunga storia piuttosto noiosa sull'infanzia dei vostri genitori dei nonni o di qualsiasi altro adulto il contenuto della storia non è importante in sé perché la morale è sempre quella alla vostra età i vostri genitori nonni o qualsiasi altro adulto erano dei bravi bambini è meglio di voi a fare qualsiasi cosa purtroppo non ci sono mai testimoni per provare la veridicità di queste storie in breve se sentite quando avevo la tua età scappate a gambe levate